In questo video di oggi vi faccio vedere come questa palla può essere utile per migliorare la parte sinistra del tuo swing per un giocatore destro e per non spingere più con la parte destra facendo tutti quelli colpi brutti che vanno a destra, che fa la flap, fa il top. Guardate questo video fino in fondo. Quello che fanno soprattutto i dilettanti, i giocatori, spingono troppo con la parte destra. Cosa significa? Quando io vado indietro, parliamo semplicemente del backswing prima, quando io faccio il set up e faccio il backswing usa tantissimo la braccia destra e se vedete da qua cosa succede? Il bastone va indietro o la faccio in questo modo con le mani, va fuori piano e in una posizione dove non gira bene il corpo. Se guardate da qua, se vado su, guardo il braccio a sinistra, mi hanno appiccicato il mio corpo e non gira la colonna. Allora non c'è rotazione, non c'è potenza e sicuramente quando scendo, scendo in modo che troppo fuori piano, verticale, spagli il colpo. L'altro è anche il movimento davanti, magari uno fa il backswing abbastanza bene, ma quando iniziano il downswing cominciano a spingere contro il shaft, contro la testa del bastone e vanno troppo verticali sulla palla, conseguenza tirare su per fare un po' di spazio diventa un casino, non può essere costante così. Se vedete anche da quest'angolo spingo, spingo, vado fuori piano, se vedi conseguenza tirare su subito, disastro. Allora per fare un swing fatto bene, per essere ripetitivo, per avere un impatto costante, io ho bisogno di due cose. La capacità di mantenere gli angoli di mio corpo durante il swing e tenere le mani lontano del corpo. Io voglio mantenere questa ampiezza. Tei guardi pro sono qua, poi quando scendono, arrivano qui, scaricano il bastone davanti o leggermente dopo l'impatto al massimo, qui c'è lì. Oggi vi faccio vedere tre semplici esercizi per migliorare il braccio sinistra, la parte sinistra perché la maggior parte di voi avete problemi lì. Allora, una palla piccolina, l'ho preso a Decathlon che costa, non so, un euro. E cosa faccio con questo? Parto con il back swing, la sensazione di lanciare solo con la mano sinistra. Anche una palla di tennis va bene. Prendo la mia postura. Il mio obiettivo è creare spazio, energia che viene dalla parte sotto, dalla parte centrale. Voglio usare questa parte qui e creare ampiezza. Prendendo questo faccio un gesto dinamico, un movimento potente. Cosa faccio? Voglio lanciare questo palla un po' diagonale in alto verso destra. Facendo questo, se vedi subito che gli angoli, la spalla sinistra è più bassa del destra. Non deve lanciare indietro così, ok? Non deve lanciare in questo senso qui. Deve lanciare creando il movimento di golf e faccio questo senso. Guardate qui, arrivo dal piede, guarda per lanciare con potenza, vado un po' contro la destra, poi lancio e giro. Ok? Guarda questa posizione che c'è. Guarda se mette la mano destra. Ho girato, è potente, ho spazio. Ok? Lo rifaccio un'altra volta. Così vedete, voglio creare energia in questo back swing. Back swing non è un movimento lento, controllato, è dinamico, potente. Chiaro, non deve essere super veloce, deve essere gestito bene, ma ecco. Allora io la lancio in alto, la sensazione che arriva dalla parte sotto, che giro, va contro il destra, poi giro e lancio la palla diagonale indietro di me. Guarda che posizione. Ok? Questo è un esercizio fantastico. Adesso prendo la palla, dove mi è dato? Qua. Prendo la palla e faccio contrario. Ok? Quello è per il back swing. Adesso facciamo il movimento davanti. Adesso voglio lanciare sempre con la mano sinistra. Ma dove la lancio adesso? Le devo lanciare qui davanti. Ok? Non qui. Non devo lanciare come fai tanti dilettanti che scaricano qua. Non deve tenere per troppo tempo che la lancio qui indietro. L'obiettivo è lanciare da terra circa un metro davanti a me. Allora, la sensazione del back swing. Energy è contro. Adesso vado contro la gamba sinistra e la scarico veloce lì. Con potenza. Se guardi, se io vado e lancio forte, automaticamente il mio corpo cosa fa? Gira e si tira su per creare spazio. Ho due, diciamo, movimenti apposti al stesso momento. Cosa significa? Vado giù, scarica la braccia e tiro su. Questo scaricando, tirando su mi dà spazio e anche più energia, più potenza, più velocità. Allora, su, carico, lancio lì. Questo non l'ho fatto neanche perfetto, ero troppo in qua, deve essere più qua. Ma guardate come sono. Guarda, se io vado avanti, c'è un finish. Faccio ancora uno, un attimo. Eccomi, sono tornato. Allora, palla, posizione, carico, energia, boom, energia, boom, lancio lì, energia, boom, lancio lì. Eccomi, guarda quanto ho girato. Sembra uno stupidaggio, ma questo aumenta le sensazioni tantissime. Fate questo allenamento, fate per, che ne so, due o tre settimane. Ok, passiamo al numero due. Ok, drill numero due è una cosa veloce e semplice. Tengo il bastone con la mia mano sinistra, sempre per un giocatore destro, contrario, pummancino. Mi metto in posizione. La mano destra, l'appoggio senza grippare, l'appoggio qui, quasi non toccando il bastone. L'obiettivo di questo è non guidare il swing con questo, ma mantenere l'ampiezza con questo. E se io lo faccio bene, pesa il bastone, per spostarlo, deve comunque attivare qua. Vado, ok, per il bastone prendo un po' di innessione, un po' di velocità e non mi pesa. Non spingo mai, vado su, tengo, adesso l'appoggio questo, guarda come sono ampio. Allora, non è questo, è questo, l'appoggio leggero, giro, lascio andare su. Adesso posso grippare. Veramente è fantastico, ragazzi, questo. Questo veramente aumenta la sensazione e grippo alla fine. Guarda che posizione, guarda che ampiezza. Questo è il topo, ho girato tutto, mi sento potente che posso spaccare la palla. Poi da qui, tengo sempre la mano appoggiata e cosa faccio? Appoggio, faccio cadere, faccio scendere, appoggio, faccio scendere. Non sto spingendo, non devo fare niente, questo deve solo andare giù, questo punto qui, questo punto qui posso allineare il bastone, la testa del bastone con il tappo e la mano, guarda. Da questo punto qui, guarda, spingo con tutti e due adesso. Da qui spingo con tutti e due, ok? Da qui faccio scendere. Sono posizioni che posso spingere tutti e due. mi tiro su un po', cominciare la rotazione, l'effetto spirale per creare spazio. Guarda, qui niente, boom. Un altro esercizio, se va praticato, adesso mi sento già che tiro tutti i muscoli qui, questo è un buon segnale. Passiamo al numero tre. Numero tre, questo è quello che io ho fatto quando ero ragazzo, ho lavorato tantissimo su questo, è sicuramente uno dei drill più importanti che ho fatto per creare potenza e rinforzare la parte sinistra. Semplicemente con un ferro, una palla, un t, io tiro la palla con una mano. Il mio obiettivo cos'è? Cercare di, adesso parto con i piedi uniti, di sentire il bastone che va su in rotazione, vedi? In posizione che non mi pesa troppo. Questo mi pesa, non voglio proprio verticale, ok? Così, questo è perfetto. A questo punto faccio cadere, faccio cadere, faccio riallineare tutto, ok? Vedi dopo impatto? Ecco, disteso, lungo, dritto e vado avanti. Quando vado avanti la sensazione è che la braccia è disteso e c'è un po' di rotazione dell'avambraccio. molto importante questo, questo chiamiamo rilascio. Non voglio scaricare qua. C'è questo test al bastone, deve riallineare con le mani leggermente dopo impatto, qui. Ok? Così faccio palla, zola. Ok? Se vedi che è piovuto, c'è un po' di acqua per terra, si sente anche il rumore. Ok? Quando ho la sensazione, piedi abbastanza uniti, comincio con qualche swing, in pugni più corto, un po' più controllo. Metto la mano destra qui, leggera, faccio un piccolo swing. Ok? Faccio ancora uno. Devo mantenere gli angoli, devo sentire sensazione. Qui, qui e lascio. Ok? Senti che il corpo è un po' attivo, ma soprattutto il bastone sempre in equilibrio. Ok? Molto, molto fluido. Quando avete un po' di sicurezza, allargati i piedi, comincio a swingare un po' più lungo, sempre impugnando corto, comincio a ruotare un po' di più, creare un po' più swing. Quando io, ragazzo, io tiravo la palla circa con un ferotto, 110-120 metri da un tee, e mi è funzionato veramente bene. Adesso sono un po' fuori allenamento, non sono bravo come una volta, ma la palla prendo. Stessa sensazione. Facciamo ancora due. Giro. Su. Questo ho preso un po' in punto, infatti ho sentito che ho tirato un po' indietro, ma piano piano, lavorando su questo, sto rinforzando la sensazione di ruotare, crei spazio, vado contro, rilascio, tiro su, finish. E dopo, se uno fa questo per qualche settimana, ovviamente non andate ad infiammare tutti i tenderi sul braccio se ti fa male, ferma. Giro. Boom. Questo era molto bello. Se guarda come sono in alto qua, guarda il mio finish, perché ho scaricato, non riesco a controllare più la velocità, allora è potente. Quando avete fatto un po' di questo, con due mani, cerca di ricreare le stesse sensazioni, metti in posizione. E qui ho sentito molto bene l'abbraccio sinistra. Ho sentito che sono riuscito a scaricare al massimo qua. Grande estensione, ottimo finish. Tre drill per rinforzare la parte e sinistra per creare più ampiezza e sicuramente più costanza. Be your best. Ti è piaciuto questo video, schiacciate il bottone like e conto il video con un amico. Poi schiaccia il subscribe al campanello vicino, subscribe per non perdere più un video come questo.